Padre Terriere era un uomo colto. Non soltanto aveva studiato teologia, aveva anche letto i filosofi e si occupava tra l'altro di botanica e di alchimia. Aveva una certa considerazione del proprio spirito critico. Di sicuro non sarebbe arrivato al punto, come facevano alcuni, di mettere in dubbio i miracoli, gli oracoli o la veridicità dei testi della Sacra Scrittura, anche se tutte queste cose in realtà non erano spiegabili soltanto con la ragione. Anzi, spesso la contraddicevano decisamente. Preferiva non immischiarsi in problemi di questo genere. Vi risultavano troppo sgradevoli e l'avrebbero soltanto gettato nella più penosa incertezza e inquietudine laddove proprio per far uso della sua ragione aveva bisogno di certezza e di quiete. Ma quello che combatteva in assoluto erano le fantasticherie superstiziose della gente semplice, stregoneria e cartomanzia, uso di amuleti, malocchio, scongiuri, magie di luna piena e quant'altro riuscivano a escogitare. Era ben deprimente constatare come simili usanze pagane non fossero ancora state sradicate dopo il solido insediamento più che millenario della religione cristiana. Anche la maggior parte dei casi di cosiddetta ossessione diabolica e lega satanica a un più attento esame si rivelavano una commedia spettacolare della superstizione. certo proprio negare l'esistenza di satana, dubitar del suo potere, terrier non voleva arrivare a tanto, a dirimere questi problemi che toccavano i cardini della teologia erano chiamate ben altre istanze, non un semplice umile frate. D'altra parte era evidente che se una persona semplice come quella balia affermava di avere scoperto uno spirito diabolico mai e poi mai il diavolo poteva averci le mani in pasta. Proprio il fatto che lei credesse di averlo scoperto dimostrava con certezza che lì non c'era niente di diabolico da scoprire perché il diavolo non era poi così sciocco da farsi smascherare dalle balie, dalla balia Jean Bussy, e per di più con il naso, con l'organo primitivo dell'olfatto, il più volgare dei sensi, come se l'inferno sapesse di Zolfo e il paradiso d'incenso e mirra. La peggiore delle superstizioni, come nella preistoria più oscura e pagana, quando gli uomini vivevano ancora come bestie, quando non possedevano ancora una vista acuta, non conoscevano il colore, ma credevano di poter annusare il sangue, pensavano di distinguere al fiuto l'amico dal nemico, di essere fiutati da cannibali giganteschi o da lupi mannari e di essere riconosciuti all'odore dai rinni e portavano ai loro dei mostruosi olocausti puzzolenti e fumanti, spaventoso. Il matto vede col naso più che con gli occhi e probabilmente la luce della ragione concessa da Dio ha dovuto brillare per altri mille anni prima che gli ultimi residui della fede primitiva fossero dissipati. Ahimè, questo povero piccolo, questa creatura innocente, sta nel suo canestro ed è assopito senza presentimento alcuno dei disgustosi sospetti che sorgono contro di lui. Tu non avresti l'odore che i bambini devono avere, osa affermare quell'insolente? Ebbene, che cosa ne diciamo? Ci, 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 ci. E fece dondolare piano piano il canestro sulle ginocchia, accarezzò il lattante sulla testa col dito e di tanto in tanto diceva ci, 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 espressione che riteneva tenera e di effetto calmante sui bambini. Dovresti avere un odore di caramello che assurdità ci 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 poco dopo tirò indietro il dito se lo mise sotto il naso fiuttò ma non sentì altro se non l'odore dei cauti che aveva mangiato a mezzogiorno esitò un attimo si guardò attorno per vedere se nessuno lo osservava sollevò il canestro e vi affondò dentro il grosso naso si chinò sulla testa del lattante finché la rada peluria rossiccia del bimbo gli solleticò le narici e annusò aspettandosi di asperare qualche odore non sapeva bene che odore dovesse avere la testa di un lattante naturalmente non di caramello questo era certo infatti caramello era zucchero fuso e come poteva un lattante che fino allora aveva inghiottito solo latte sapere di zucchero fuso di latte poteva sapere di latte di balia di capelli poteva sapere di pelle di capelli e forse di un leggero sudore infantile e terriè annusò e si preparò a sentire odore di pelle di capelli e di un leggero sudore infantile ma non sentì niente con tutta la buona volontà niente probabilmente un lattante non ha odore pensò sarà così un lattante se è tenuto pulito non ha per l'appunto odore così come non parla non corre o non scrive queste cose vengono soltanto con l'età in verità l'uomo comincia ad avere un odore soltanto nel periodo della pubertà così è e non altrimenti non scrive forse orazio sa di capro il giovinetto la vergine in boccio profuma come bianco narciso e i romani se ne intendevano l'odore dell'uomo è sempre un odore carnale quindi un odore peccaminoso e dunque che odore dovrebbe avere un lattante che non conosce il peccato carnale neanche per sogno che odore dovrebbe avere ci 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 proprio nessuno si rimise il cesto sulle ginocchia e lo fece dondolare lievemente il bambino continuava a dormire sodo il suo pugno destro sporgeva da sotto la coperta piccolo e rosso e talvolta di scatto batteva contro la guancia in modo commovente terrier sorrise ed un tratto si sentì in uno stato d'animo molto gradevole per un momento si concesse la fantasia di essere il padre del bambino non si era affatto frate era un normale cittadino un onesto artigiano magari aveva sposato una donna con un caldo odore di lane di latte e con lei aveva generato un figlio e ora lo faceva dondolare sulle ginocchia suo figlio ci 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 pensava provava un senso di benessere e questo pensiero era un pensiero così a modo un padre che fa dondolare suo figlio sulle ginocchia ci 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 era un'immagine vecchia come il mondo e tuttavia sempre nuova e giusta finché il mondo fosse esistito ah sì terrier sentì che gli si scaldava il cuore e stava diventando sentimentale in quel momento il bambino si svegliò si svegliò dapprima con il naso il piccolo naso si mosse si tese verso l'altro e fiutò inspirò l'aria e la soffiò fuori a piccoli colpi come avviene con uno starnuto incompleto poi il naso si arricciò e il bambino aprì gli occhi gli occhi erano di colore indeterminato tra il grigio ostrica e il bianco crema opalino ricoperti da una specie di membrana ed evidentemente ancora non molto adatti alla vista terrier aveva l'impressione che non lo vedessero affatto ben diverso era il naso mentre gli occhi scialbi del bambino sbirciavano nel vago il naso sembrava puntare verso una meta precisa e terrier aveva la stranissima sensazione che questa meta fosse lui stesso la sua persona le minuscole pinne nasali attorno ai due minuscoli fuori in mezzo al viso del bambino si dilatavano come fiori in sboccio o piuttosto come le cupole di quelle piccole piante carnivore che tenevano nell'orto botanico dei re e come da queste dalle pinne nasali del bambino sembrava fuoriuscire un risucchio inquietante per terrier era come se il bambino lo vedesse con le sue narici come se lo guardasse attento inquisitore in modo più penetrante di quanto avrebbe potuto fare con gli occhi come se con il naso divorasse qualcosa che proveniva da lui terrier e che lui non poteva trasmettra tenere né nascondere quel bambino senza odore lo stava annusando spudoratamente così era lo fiutava ed un tratto terrier si sentì puzzare di sudore e di aceto di crauti e di vestiti non lavati si sentì nudo e brutto come fissato da qualcuno che per parte sua non rivelava nulla di sé era come se il bambino penetrasse con l'olfatto anche attraverso la sua pelle fin nel suo intimo più profondo i suoi sentimenti più teneri i suoi pensieri più turpi erano nudi davanti a quel piccolo avido naso che non era ancora un vero e proprio naso bensì soltanto un accenno un minuscolo organo con buchi che si arricciava si gonfiava e fibrava di continuo terrier rabbrividì si sentiva nauseato per parte sua storse il naso come di fronte a qualcosa di male odorante con cui non voleva avere nulla a che fare sparita l'idea familiare che si trattasse della propria carne e sangue svanito l'idilio sentimentale di padre figlio e madre calda di odori come strappato quel velo di pensieri piacevolmente avvolgenti fantasticati attorno al bambino e a se stesso sulle sue ginocchia giaceva un essere estraneo freddo un animale ostile e se lui non avesse avuto un carattere così posato e governato dal timor di dio e da un giudizio razionale in un accesso di disgusto l'avrebbe scagliato lontano da sé come un ragno di colpo terrier si alzò e depose il canestro sul tavolo voleva liberarsi della cosa il più in fretta possibile ora subito e in quel momento il bambino cominciò a urlare strinse gli occhi spalancò la sua gola rossa e diede uno strillo così acuto e ripugnante che a terrier si gelò il sangue nelle vene scosse il canestro con il braccio teso e gridò chi 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 per far smettere il bambino ma quello urlò ancora di più forte e diventò tutto blu in faccia e sembrava che stesse per scoppiare dalle urla via pensò terrier bisogna mandar via all'istante questo stava per dire demonio e fece uno sforzo e così si frenò via questo mostro questo bambino insopportabile ma dove conosceva dozzine di balie e di orfanotrofi nel quartiere ma erano troppo vicini a lui era erano giusto un passo bisognava mandare quella cosa più lontano così lontano da non sentirne più parlare così lontano che non potessero riportarla ogni momento davanti alla porta se possibile in un altro distretto sull'altra riva ancora meglio è meglio di tutto extra muros in fubor de saint antoine ecco là doveva andare il marmocchio strillante lontano verso est al di là della bastiglia dove di notte chiudevano le porte e sollevò la sua sottana afferrò il canestro urlante e corse via corse attraverso il labirinto di vicoli fino a rue de fubor de saint risalì la senna verso est fuori dalla città sempre più fuori percorse rue de charron fino alla fine dove nei pressi del monastero di madeleine de ternelle aveva l'indirizzo di una certa madame guillard la quale accettava bambini a pensione di qualsiasi età e di qualsiasi specie finché c'era qualcuno che pagasse per loro e la consegnò il neonato sempre urlante versando l'anticipo di un anno e poi volò di nuovo verso la città e arrivato al gombento getto a terra i propri vestiti come se fossero sudici si lavò dalla testa ai piedi e si infilò a letto nella sua stanza dove si fece ripetutamente il segno della croce pregò a lungo e infine sollevato si addormentò madame guillard sebbene non avesse neppure 30 anni aveva già vissuto la propria vita esteriormente dimostrava l'età che in realtà aveva e nello stesso tempo due tre cento volte di più proprio come la mummia di una ragazza ma interiormente era già morta da tempo quando era bambina suo padre le aveva dato un colpo sulla fronte con l'attizzatoio poco più su della radice del naso e da allora lei aveva perso l'olfatto e qualsiasi senso di calore umano e di freddezza umana e soprattutto qualsiasi passione quell'unico colpo l'aveva resa estranea alla tenerezza come all'avversione estranea alla gioia come alla disperazione in seguito quando andò a letto con un uomo non provò nulla e nulla provò quando partorì i propri figli non portò lutto per quelli che le morirono e non si rallegrò per quelli che le restarono quando il marito la picchiava non si scomponeva e non provò nessun sollievo quando lui morì di colera all'hotel dieu le uniche due sensazioni che conosceva erano un lievissimo offuscamento dell'animo quando si avvicinava all'emicrania mensile e un lievissimo rasserenamento dell'animo quando l'emicrania se l'andava per il resto questa donna insensibile non provava nulla d'altra parte e forse proprio a causa della sua totale mancanza di emozioni madame guillard possedeva un senso spietato dell'ordine e della giustizia non prediligeva nessuno dei bambini a lei affidati e non ne trascurava nessuno somministrava tre paste al giorno e non un solo boccone di più cambiava le fasce ai piccoli tre volte al giorno e solo fino a quando compivano due anni dopo questo termine che continuava a farsela addosso riceveva un ceffone senza alcun rimprovero e un pasto in meno madame guillard spendeva la metà esatta della retta per i suoi pupilli e terneva per sé l'altra metà esatta nei tempi buoni non cercava di aumentare il suo guadagno ma nei tempi duri non lasciava perdere neppure un soldo neanche quando si trattava di vito di morte diversamente il mestiere non sarebbe più stato redditizio aveva bisogno di denaro aveva fatto i suoi conti con precisione estrema da vecchia voleva assicurarsi un vitalizio e inoltre avere abbastanza da potersi permettere di morire in casa anziché crepale all'hotel di come suo marito anche la morte di lui non le aveva fatto né caldo né freddo ma aveva orrore di quella morte pubblica assieme a centinaia di estranei voleva potersi permettere una morte privata e per questo le occorreva tutto il margine di guadagno proveniente dalla retta c'era l'inverno è vero in quel periodo con due dozzine di piccoli pensionanti ne morivano tre o quattro tuttavia anche così se la cavava sempre molto meglio della maggior parte delle altre madri adottive il suo reddito superava di gran lunga quello dei grandi brefotrofi statali e religiosi la cui percentuale di perdite spesso ammontava a nove decimi poi c'era anche molto ricambio ogni anno parigi produceva più di diecimila nuovi trovatelli bastardi e orfani in tal modo era possibile consolarsi di più di un ammanco per il piccolo grenoi l'istituto di madame guillard fu una benedizione probabilmente non sarebbe riuscito a sopravvivere da nessun'altra parte ma lì accanto a quella donna dal cuore sterile crebbe bene era adottato di una costituzione robusta chi come lui era sopravvissuto la propria nascita fra i rifiuti non si lasciava più strappare dal mondo così facilmente poteva nutrirsi per giorni con zuppe acquose si sosteneva con il latte più magro tollerava la verdura più appassita e la carne più guasta nel corso della sua infanzia sopravvisse al morbillo alla dissenteria alla varicella al colera a una caduta di sei metri in un pozzo e a una ustione al petto con acqua bollente ne riportò comunque cicatrici screpolature croste e un piede leggermente deforme che lo faceva zoppicare tuttavia visse era tenace come un batterio resistente parco come una zecca che se ne sta quieta su un albero e sopravvive con una minuscola goccia di sangue succhiata anni prima per il suo corpo aveva bisogno di un minimo di cibo e di abiti per la sua anima non aveva bisogno di nulla sicurezza dedizione tenerezza amore o comunque si chiamino tutte queste cose che si presume occorrono a un bambino al bambino grenoi non erano affatto necessari o piuttosto ci sembra lui stesso aveva fatto in modo che non gli fossero necessari per riuscire a vivere fin dal primo momento il grido dopo la sua nascita il grido emesso sotto il banco da macello con il quale aveva dato notizia di sé e aveva portato sua madre al patibolo non era stato un grido istintivo di pietà ed amore era stato un grido ben meditato si potrebbe quasi dire lungamente meditato con cui il neonato si era preannunciato contro l'amore e tuttavia per la vita nelle circostanze in questione quest'ultima era possibile anche senza l'amore e se il bambino avesse preteso entrambi senz'altro avrebbe fatto ben presto una fine miseranda allora avrebbe certo potuto cogliere al volo anche la seconda possibilità che gli si offriva avrebbe potuto tacere e scegliere la via diretta dalla nascita alla morte senza deviare per la vita e con ciò avrebbe risparmiato una quantità di sciaguri al mondo e a se stesso ma per uscire di scena così discretamente avrebbe dovuto avere un minimo di gentilezza innata cosa che grenoi non possedeva fin dall'inizio fu un mostro si decise a favore della vita per puro dispetto e per pura malvagità naturalmente non decise come decide un adulto che per scegliere fra varie opzioni usa la sua più o meno grande ragionevolezza ed esperienza ma decise al modo di un vegetale così come un fagiolo gettato via decide che deve germogliare o se è meglio lasciar perdere oppure come quella zuczecca sull'albero cui la vita non ha altro da offrire se non un continuo a sopravvivere la zecca piccola e brutta che modella il suo corpo grigio piombo come una palla per offrire al mondo esterno la minima superficie possibile che rende la sua pelle compatta e dura per non lasciar fuoriuscire nulla per non lasciar traspirare nemmeno una minima parte di sé la zecca che diventa piccolissima insignificante perché nessuno la veda e la calpesti la zecca solitaria che raccolta in sé sta rannicchiata sul suo albero cieca sorda e muta e si limita a fiutare fiutare per anni a distanza di miglia il sangue di animali di passaggio che con le proprie forze non raggiungerà mai la zecca potrebbe lasciarsi cadere potrebbe lasciarsi cadere a terra nel bosco con le sue sei minuscole zampette potrebbe strisciare qua e là per un paio di millimetri e poi aspettare la morte sotto le foglie non sarebbe una gran perdita per lei dio sa che non lo sarebbe ma la zecca testarda ostinata e ripugnante sta rannicchiata e vive e aspetta aspetta finché il caso estremamente improbabile le porta il sangue sotto forma di un animale direttamente sotto l'albero e soltanto allora abbandona il suo ritegno si lascia cadere e si aggrappa e scava e si attacca con unghie e denti alla carne altrui una simile zecca era il bambino grenoi viveva come incapsulato in sé e aspettava tempi migliori al mondo non dava nulla se non i suoi escrementi non un sorriso non un grido non un guizzo degli occhi neppure un proprio odore qualsiasi altra donna avrebbe scacciato questo bambino mostruoso non così madame guillard infatti non sentiva che lui non aveva odore e non si aspettava da lui nessun moto dell'anima perché la sua stessa anima era sigillata gli altri bambini invece avvertirono subito che in grenoi c'era qualcosa che non andava fin dal primo giorno nuovo arrivato sembrò loro sospetto evitarono la cesta in cui giaceva e accostarono l'uno all'altro i teli dei loro letti come se la stanza fosse diventata più fredda la notte talvolta i più piccoli strillavano avevano l'impressione che una corrente d'aria fosse passata per la camera altri sognavano che qualcosa togliesse loro il respiro una volta i più grandi si riunirono e cercarono di soffocarlo ammucchiarono vestiti coperti e paglia sulla sua faccia e caricarono il tutto con mattoni la mattina seguente quando madame guillard lo liberò lui era pesto malconcio e blu ma non morto ci provarono ancora un paio di volte ma inutilmente strozzarlo addirittura stringendolo al collo con le loro stesse mani o tappargli la bocca o il naso sarebbe stato un metodo più sicuro ma non osarono non volevano toccarlo provavano ripugnanza di fronte a lui come di fronte a un grosso ragno che non si ha il coraggio di schiacciare con le proprie mani quando fu più grande rinunciarono ai tentati omicidi si erano convinti che non c'era modo di eliminarlo si limitarono a sfuggirlo a stargli lontani a evitare qualsiasi contatto con lui non lo odiavano non erano neppure gelosi o invidiosi del suo cibo in casa guillard non ci sarebbe stata la minima ragione per coltivare sentimenti simili semplicemente li disturbava il fatto che lui esistesse non riuscivano a sentire il suo odore avevano paura di lui